oi fra 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 aspetta se iniziano un altro ma questa musica già la adoro ma che cosa ho in testa? una maglietta rotolata tipo uomo ma si si ma no straccio io sembro d'ora l'esploratrice non vorrei dire comunque quel cazzo dietro Marco è un po' ambivo vorrei dire ma è un po' strano ci vediamo domenica 19 aprile in diretta facebook su start up comedy con natale con i tuoi e pasqua pure che è successo? ma è tu Marco non sei fatto male